Vladimir Luxuria fa il suo ritorno all'Isola dei Famosi nel 2024, ma in un ruolo molto più di responsabilità. Da conduttrice, una novità storica per la televisione italiana. Prima di svelarti le incredibili rivelazioni rilasciate a chi da Vladimir Luxuria, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. In un'intervista rilasciata a chi, Luxuria ha sottolineato l'importanza del suo ruolo come prima conduttrice trans di un programma importante in prima serata su Canale 5. Tuttavia, ha chiarito di non credere di essere stata scelta solo per questo motivo, ma per le sue capacità dimostrate nel corso degli anni. Essere la prima conduttrice trans di un programma così importante è un passo significativo per me e per la televisione italiana, ha dichiarato Luxuria. So che l'editore non mi ha voluto solo perché sono trans, ma perché ho dimostrato di essere all'altezza di questo ruolo. Credo sia merito del mio impegno e della mia competenza. Questo dimostra un'apertura da parte dell'azienda, che è sempre stata presente. Luxuria ha anche parlato del suo approccio come conduttrice, descrivendosi come affettuosa ma decisa. Ha ammesso che le liti tra i concorrenti sono inevitabili, ma si impegnerà a indagarne le cause per capirne le motivazioni più profonde. La notizia del suo incarico ha suscitato reazioni positive da parte di molti, inclusi coloro che hanno condotto l'isola prima di lei. «Sono stati tutti felici, compresi coloro che mi hanno preceduto nella conduzione dell'isola», ha detto Luxuria. «Ho ricevuto messaggi di felicità da Simona, Nicola, Alessia, Ilari. È bello condividere la felicità con gli altri». In studio, Luxuria sarà affiancata da due volti noti di Canale 5, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Bruganelli, già opinionista del grande fratello VIP, rivestirà lo stesso ruolo anche all'isola dei famosi. Maltese, invece, è noto per essere un giornalista televisivo e Luxuria ha elogiato la sua personalità e il suo stile informale.